Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come aumentare così GFPS su Apex Legends grazie anche a moltissime impostazioni che useremo grazie a Nvidia e soprattutto anche a un programmino che si chiama Nvidia Profile Inspector che ti permetterà di abbassare un po' la texture del gioco e migliorando un po' le prestazioni su Apex Legends quindi in questo caso come puoi vedere sto registrando con OBS Studio quindi tenendo OBS Studio aperto e registrando con questo programma perdo un po' di FPS ma come puoi vedere qua sto registrando con un'altra applicazione di FPS sono più alti ok quindi anche nel sparare non avrai problemi di FPS quindi sempre sopra ai 100 FPS prima di andare a fare queste impostazioni andiamo un attimo sulle impostazioni di Apex Legends andiamo su video modalità di visualizzazione se tu giochi a schermo intero non avrai problemi di tipo stuttering problemi tipo che va in crash e cose così luminosità tenilo su 76 campo visivo mettilo su 110 lo tengo io ridimensionamento campo visivo abilità metto attivato movimento visuale in corsa metto minimo il V-Sync come ho detto se tu lo tieni adattivo blocchi gli FPS permettendo al gioco di non crashare più perlomeno su disattivato ci possono essere degli sbalzi quindi può salire e scendere di FPS e avere problemi di stuttering tutte queste cose qua lag e poi crasha però se vuoi avere tanti FPS metti disattivato nvidia reflex metto attivato più potenziamento FPS obiettivo risoluzione adattiva metto 100 tengo 100 page texture streaming qua dipende dalla VRAM della tua scheda video se ne hai molta mettine tipo anche ne so se ne hai 12 di gigabyte di VRAM mettine fino a ultra 8 io lo tengo su 6 filtro textur anisotropico metto su trilineare qualità occlusione ambientale metti disattivato tutte queste cose qua ombre solata e ombre solari a noi non interessa migliorare la qualità sul gioco ma non interessa migliorare le prestazioni mettete basso qualità dettagli ombre mettiamo basso illuminazione volumetrica questo è importante per i personaggi che si muovono i paesaggi gli oggetti qualità ombre dinamica metto disattivato qualità dettagli modello questo lo tengo su alta se no non riesco a vedere bene diciamo come dire le sagome tutte quelle linee sui personaggi da lontano quindi non si vede proprio niente dettagli mappa metto basso qualità segni impatto metto disattivato qualità ragdoll metto basso e faccio applica e queste sono le impostazioni su apex ora usciamo un attimo da apex e andiamo a fare queste modifiche sulle impostazioni di nvidia quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato così il link che ti porterà sulla pagina del pannello di controllo di nvidia se tieni questo pannello di controllo tasso destro sopra pannello di controllo di nvidia gestisci le impostazioni 3d impostazioni programma aggiungiamo così un programma sfoglia andiamo così nella cartella del gioco quindi io vado a prendere apex scendo fino a giù fino a trovare r5 apex.exe e faccio apri ed eccoci qua ora ridimensionamento immagini mettiamo disattivato per i primi per le prime impostazioni qua ce lo facciamo consigliare da nvidia controllato dall'applicazione questo puoi saltarlo filtro anisotropico controllato dall'applicazione perché l'abbiamo già messo su apex filtro struttura consenti filtro struttura ottimizzazione campione disattivato filtro struttura qualità mettiamo prestazioni elevate frequenza fotogrammi massimo mettiamo disattivato gp rendering opengl mettiamo la mia quindi metti la tua scheda video modalità bassa radenza metti ultra centri fino a giù saltando questi quasi sincronizzazione verticale metti disattivato metti disattivato che è meglio tecnologia monitor compatibilità gsync o freezing per amd freezing nvidia gsync se il tuo monitor supporta questa questa tecnologia la più elevata disponibile l'ultimo velocità di aggiornamento e fai applica applica più volte finché non si fa non si è fatto tutto fatto una volta fatto in descrizione c'è un link che ti porterà sulla pagina per scaricare nvidia profile inspector trovi così il pacchetto raro all'interno del pacchetto raro c'è la cartella ed ecco il programmino invidia questo funziona per invidia per amd bisogna testarlo e per inter non funziona per intel se hai problemi con il link c'è il server discord entra nel server discord e ti mando il pacchetto entriamo nell'applicazione dobbiamo solamente fare tre cose e abbiamo finito quindi vai a scrivere apec legends come puoi vedere ci sono già le impostazioni che abbiamo inserito ci sono tutte vai su anti lesing trasparenzi super sampling mettendo 808 doppia motte centri fino a giù fino a trovare il filtro struttura texture texture filtering load bias dx più 2.7500 stessa cosa anche con questo te lo consiglio veramente moltissimo questo programmino questo programmino poi testarlo su qualsiasi altro gioco fare dei test e vedere quale è meglio e non ti piacciono queste nuove impostazioni puoi sempre cliccare qua sopra ripristina il tutto quindi ritorneranno di nuovo a come prima e quindi questo è e fai applica applica più volte e chiudi qua e ora non ti resta che entrare su apec e vedere le nuove impostazioni ed eccolo qua quindi se questo video ed è stato utilissimo su come aumentare le prestazioni gli fps su apec legends per questa missione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao